Comandante, bilancio di fine anno per le attività del 2016, quali sono i dati che emergono maggiormente? Il dato che emerge maggiormente è di una città che sta vivendo un momento di crisi, che però da un'altra parte c'è un grande fervore dal punto di vista economico e di società che cercano in qualche modo di affermarsi sul mercato. Ovviamente il dato che le posso dare io è un dato che fa più riferimento a quelle che sono le violazioni del codice ma devo essere sincero, a parte situazioni dove effettivamente vengono rinvenuti irregolarità pesanti come possono essere le fatture false che ormai sono diventate un leitmotiv di qualsiasi tipo di verifica fiscale non è stato individuato un nuovo filone particolare. Per i dati conclusivi aspettiamo che il Comando Generale, come ogni anno, faccia il suo libro dei risultati del 2016 e guardiamo già il 2017 con particolare attenzione a quelle che possono essere i connubi fra pubblica amministrazione e criminalità organizzata perché ovviamente ci siamo resi conto che il nuovo strumento da attenzionare è quando la politica si affaccia al mondo dell'imprenditoria e viceversa creando dei connubi che effettivamente possono in qualche modo andare a creare della concorrenza sleale nel mercato e di conseguenza andare a pilotare degli episodi che creano appunto delle distorsioni di quelle che sono la concorrenza, la normale concorrenza. Mi dà lo spunto per farle un'ulteriore domanda. Tra le indagini più importanti di questo 2016 quali ricorderemo? Purtroppo non posso ancora parlarvi, sapete che ci sono diverse indagini in corso, spero che i primi mesi del 2017 potranno dare un esito a questa attività. Lavoriamo tanto, siamo poco presenti sui giornali perché la nostra attività va a tutelare quella che è anche la dignità del contribuente nel senso che molte delle nostre attività possono andare a ledere l'immagine del contribuente che non è una cattiva persona di per sé perché magari sbagli nella gestione dell'azienda. Semplicemente potrebbe essere un errore contabile come potrebbe essere un artificio, qualcosa di voluto ma questo non deve in qualche modo andare a inficiare anche la sua sfera personale. Di conseguenza lo statuto del contribuente ci intima, e noi siamo ben felici di farlo, di adottare un approccio soft con questo tipo di attività. Di conseguenza ancora non possiamo ovviamente venirvi a raccontare tutto quello che facciamo ma la città è controllata da questo punto di vista, ve lo posso assicurare.